Allora, senti, non abbiamo preparato nulla, giusto? Ci siamo visti poco fa a cena e ti ho detto, ascolta, facciamo una chiacchierata come abbiamo fatto l'altra sera a cena, secondo me è molto bello. Quindi, innanzitutto spiega in due parole cosa fai e poi spieghiamo da dove è iniziato tutto questo. Perfetto. Allora, innanzitutto ti ringrazio perché io sono un tuo ex allievo, ma lo sono ancora allievo. E quindi tutto quello che ho fatto e che vi racconterò è merito anche di Roberto e di Tony Robbins, ovviamente. E quindi ti ringrazio davanti anche ai ragazzi. Vi racconto un po' la mia storia? Mi ha chiesto Roberto perché ovviamente è segnata totalmente da questi corsi, totalmente quando le persone mi conoscono o non conoscono questi corsi, poi leggono il libro e mi ritrovano là dentro. Oppure vengono i corsi e dice ecco, è lui. Quindi io sono molto segnato, positivamente probabilmente, da questi corsi e quindi raccontando un po' la mia storia, non sarà per raccontare i fatti miei che magari interessano a pochi, ma l'obiettivo è quello che si prendono alcuni elementi, alcuni esempi per capire che cosa mi ha fatto raggiungere quello che volevo.